Meno violenza ma più affari sporchi e la fotografia delle mafie italiane nella relazione semestrale della DIA. Giulia Serenelli. Panetti di cocaina solcano il mare fino ai porti italiani. Per le organizzazioni criminali la droga significa una sola cosa, montagne di soldi incontanti. Denaro sporco da ripulire è nel web che farlo è più semplice, poche tracce e un mercato sconfinato. Andrangheta paga i grandi traffici stupefacenti in moneta elettronica, in bitcoin, in monero o in altre monete più di recente uscite su un mercato. Sparisce la droga, spariscono i soldi sporchi, rimane qualcosa di immateriale ma preziosissimo. Criptovalute, certificati di proprietà di opere d'arte digitali, la nuova frontiera delle vecchie mafie. L'utilizzo di un NFT, un'immagine digitale che viene messa in asta, un'asta fittizia e attraverso l'incasso di questa asta si possono far entrare in Italia dei capitani, provento di traffici internazionali di stupefacenti. Il volto pulito di questi imprenditori dell'illegalità, esperti di tecnofinanza, la direzione investigativa antimafia ne ha studiato mosse ed interessi e ha raccolto tutto qui nella relazione semestrale che ha presentato al Parlamento. I capitali elettronici si muovono con grande velocità, ci dice il direttore della DIA, basta un click per spostare milioni e milioni di euro.